ciao ciao a tutti oggi andiamo a cucinare i spaghetti con le cozze congelate allora nel frattempo ho acceso sotto la pentola andiamo ad aggiungere un po di olio abbiamo aggiunto un po di olio adesso mettiamo un po di gel e aglio un po di prezzemolo facciamo soffriggere un po oddio oh yes adesso andiamo ad aggiungere le cozze ho aggiunto le cozze adesso le facciamo ancora un po che poi abbiamo aggiunto un po di comodoro ecco qui ho aggiunto il pomodoro adesso andiamo ad aggiungere un po di sale un pizzico così poi andiamo ad aggiungere un po di pepe così mescoliamo ora andiamo ad aggiungere il pi顏 un po di bollone e poi facciamo un po di pepe quindi adesso andiamo un po di mollo e poi andiamo ad aggiungere un po di pepe è quasi pronto ciao ciao ma dopo ecco qui il piatto pronto spaghetti con le cozze di sugo e vi auguro una giornata a tutti e buon appetito